Abbraccio aperte verso il prossimo, dove il prossimo è chiunque abbia bisogno di aiuto e poco importa se arriva dal mare o se non si è mai mosso dal suo paese d'origine. Parola d'ordine, accoglienza. A pronunciarla saranno tutti i cittadini che sabato pomeriggio prenderanno parte ad una mobilitazione nata da un appello social lanciato dal consigliere regionale Sabino Zinni, al quale hanno aderito diverse realtà del territorio. Lo slogan è Andria città chi accoglie, un messaggio che richeggerà all'interno di un tendone posizionato in piazza Catuma per riportare i valori della solidarietà e della fratellanza al centro della comunità andriese e delle vite delle persone che ne fanno parte. Siamo stanchi di giocare di rimessa rispetto alle parole d'ordine negative, noi vogliamo giocare in positivo, quindi mettere al centro, non il contrasto rispetto a chi non vuole accogliere, ma mettere al centro l'accoglienza. In questo senso lo abbiamo fatto proprio fisicamente, il centro fisico della città, questa piazza è il cuore pulsante della nostra città, perché vogliamo riaffermare il diritto della parte che io reputo quella più sana della città, lo dico con forza, di poter affermare che Andria ha ancora il valore dell'accoglienza nel suo DNA. Un valore, quello dell'accoglienza, ma soprattutto una zattera di salvataggio nella pericolosa deriva della società verso l'odio, il razzismo e l'intolleranza. L'obiettivo è quello di dare un segnale forte contro tutto il dialogo e la propaganda di odio, comunque di discriminazione che parte della politica di questo paese sta attuando, non solo dello Stato ma anche alla fine del nostro governo cittadino. E' ingiustificato appoggiare una politica che discrimina gli ultimi, coloro che sono oppressi e sfruttati. E gli ultimi sono tutti coloro che vivono in una situazione di disagio. Quando si parla di accoglienza si parla soltanto di migranti, accoglienza c'è bisogno per tutte quelle persone che vivono delle fragilità, delle vulnerabilità che vanno dai migranti ai papà separati, alle mamme sole, alle ragazze madri, ai giocatori ludopatici, agli anziani soli, ai disabili e via di seguito. Questa è l'accoglienza che va praticata verso quelle persone che hanno bisogno, che fuggono, che gridano, che urlano, l'attenzione di chi sta bene, di chi può dare una mano, di chi può ritornare ad amare. L'accoglienza è per il bene delle persone umane.